Terremoto ieri a Napoli 9 novembre 2024 alle ore 8 e 9 minuti circa della sera proprio nella città capoluogo di questa magnifica regione che è la Campania. Secondo l'Ingv la magnitudine del sisma è stata registrata intorno ai 2.8 gradi. Le vicie entro nell'area del Vesuvio a un chilometro di profondità. Il terremoto è stato percepito in maniera piuttosto palese da parte della popolazione nei comuni vesuviani. Buona parte delle segnalazioni sono arrivati da Torre Annunziata, Castellammare di Stabbia, Torre del Greco. Al momento non si registrano per fortuna danni a persone oppure a cose, però uno spavento generale da parte dei cittadini. Taruni infatti si sono riversati sulle strade. Dunque tornano a farsi sentire terremoti in un'area già di per sé colpita, afflitta da eventi dell'Unici. La Campania infatti nella sua buona parte possiede questi terremoti. Già ieri un altro terremoto di cui già vi ho parlato si era manifestato apertamente in Molise, sempre nei pressi proprio di Monte Cilfone che ha coinvolto la cittadinanza moridana. 3.8 la magnitudo, secondo internet, quella di ieri sempre in Molise. Questa volta invece più basso a Napoli di 2.8 gradi. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Se ci saranno eventuali aggiornamenti o novità, verli fuorirò per tempo. Una buona giornata.